Sì, penso che oggi, soprattutto nel primo tempo, non si sia visto nemmeno che fossimo un uomo in meno. Abbiamo messo il cuore prima di ogni cosa. Oggi si è vista la forza del gruppo e i potenziali di questa squadra, pur essendo in 14. È stata una bellissima partita e siamo riusciti a portare a casa 5 punti. Sicuramente la fisicità, il breakdown e la voglia che abbiamo messo in campo di lottare su ogni punto di incontro, su ogni placcaggio, su ogni presa aerea, ovunque. Noi durante la settimana, che sia una partita in casa o in trasferta, la lavoriamo sempre per vincere, diamo sempre il massimo. Ovviamente ci sono certi fattori che non stiamo neanche a dire se giochiamo fuori casa, ma continuiamo a lavorare e sicuramente prima o poi arriverà la vittoria. No, penso di aver giocato bene, ma il mio focus, già dalle partite scorse, ma da qua in avanti, sarà quello di poter riuscire a finire la partita. Ovviamente questo è una cosa che devo lavorare durante la settimana e cercherò di farlo al meglio.